Come garantiremo? Non siamo assolutamente né conformi a questo governo né allineati, si passa dal Matteo 1 al Matteo 2, è chiaro che l'elemento di forza di questo governo è la posizione assunta da Matteo Renzi, per noi che siamo un'esperienza fatta di coerenza, di far coniugare pensiero e azione sempre in una certa direzione, vedere forse che fino a un mesetto fa si odiavano stare adesso insieme è qualcosa che a un punto di vista politico ci fa sentire molto distanti da questi metodi e da questo modo di operare. Quindi valuteremo il governo con le azioni che farà, il Presidente del Consiglio Conte ha parlato del governo delle novità, mi permetto che ci sono alcune novità che si potrebbero immediatamente mettere in campo per dare un segno di discontinuità, evitare di esporre al rischio di morte persone sane in mezzo al mare, mettere da parte l'autonomia differenziata, ma già hanno detto che continueranno come Salvini sull'autonomia differenziata, poi sono curioso di sapere quale sarà la loro posizione anche sulle leggi sicurezza perché il PD dice che vanno cancellate e io sono d'accordo, il Movimento 5 Stelle dice che vanno invece mantenute in maniera intatta, sono leggi in molti punti manifestamente incostituzionali. Quindi è chiaro che ci sarà una dialettica sicuramente, il nostro progetto politico alternativo a come si è formato e come è costituito questo governo, ma credo che invece da un punto di vista quotidiano ci sarà un dialogo molto fitto, da un punto di vista politico si può ragionare su tante scadenze anche immediate, con le forze politiche stanno al governo, penso alle regionali e non solo, sono molto preoccupato invece del fatto che tutti, non molto preoccupato, sono preoccupato del tempo che si potrà perdere da alcune decisioni che potrebbero cambiare con tutti i ministri con cui avevamo raggiunto degli obiettivi nei scorsi giorni importantissimi della città, sono cambiati tutti, penso a Bonisoli, penso alla Lezzi, penso anche a tanti altri perché devo dire con i ministri in particolare della componente 5 Stelle, negli ultimi 4-5 mesi avevamo raggiunto gli obiettivi strategici che sono formalmente definiti o quasi definiti, mi auguro che non si perdano mesi o che addirittura arrivi qualcuno che cancelli tutto quello che è stato fatto, perché comunque è da un mese e mezzo che su tante vertenze noi chiamiamo, nelle stanze del governo non risponde nessuno, penso ai Navigator, penso a Whirlpool, penso a tante altre questioni, penso ai temi delle città, penso al tema della finanza, penso ai temi quotidiani della vita delle comunità del nostro paese, non solo della città di Napoli, quindi è chiaro che adesso non vedo l'ora che venga appunto data la fiducia a questo governo, che mi sembra un fatto evidente e scontato, già dal giorno dopo noi ci metteremo al telefono perché non c'è veramente tempo da perdere. Ma c'è stato un ex ministro Lezzi, temerà lentamente anche su Bagnoli? Però ho fatto una discussione, è ovvio, sono preoccupato, dalle vele che la ministra Lezzi aveva messo risorse importanti, a Bagnoli dove la ministra Lezzi alza, approfitto di questa domanda per ringraziarla perché è stata molto corretta e molto efficace su Bagnoli, ma penso anche al lavoro importante fatto col ministro della Cultura, penso anche alle infrastrutture, gli incontri fatti recentemente, gli incontri fatti con Spada, abbiamo fatto incontri importantissimi, quindi è chiaro che il rallentamento già c'è stato, io mi auguro che quel rallentamento venga recuperato e mi auguro soprattutto che non vengano riviste o cancellate alcune operazioni, ecco, la preoccupazione sinceramente ce l'ho. Il governo è nato anche grazie alla posizione determinante, i voti espressi dalla piattaforma Rousseau, lei ritiene che non fosse più giusto portare gli italiani alle urne? Beh, ho capito, ma loro ormai hanno deciso, stiamo in una repubblica parlamentare, i parlamentari hanno deciso in questo modo, si sono assunti la responsabilità di fare questo governo, l'ho già detto prima, poi le urne sono importanti, io faccio una previsione, però probabilmente sbaglierò, quando si farà un sondaggio a dicembre noi avremo un Salvini intorno al 30% ancora come capo dell'opposizione perché ci vorrà parecchio fin quando inizierà, tra virgolette, la tensione e il processo interno per l'errore gravissimo politico ha fatto Salvini perché è un errore incredibile, di delirio di onnipotenza che ha fatto tra il papete Bici, Mojito, Caudiglio di Spiaggia, Biceturre e altro, pensava di essere il nuovo Mussolini, si è bruciato da solo e si è suicidato, però a dicembre noi avremo Salvini al 30% e Renzi al 30%, e il Movimento 5 Stelle probabilmente non crollerà sotto il 10 grazie a Conte, ma si assesterà intorno al 15%, quindi l'operazione di Maio alla fine è quello che il Vangelo secondo Matteo, cioè primo Matteo, secondo Matteo, ha portato in alto i Matteo e soprattutto l'operazione, che Matteo Renzi, questo è evidente, che era il principale bersaglio politico di Luigi Di Maio e che stava in difficoltà politiche enorme, è stato il playmaker di questo governo che si è andato a formare in questi giorni, quindi quando poi andremo a discutere di urne, io credo che tra qualche mese, visto che parlano tutti di essere i salvatori della patria e quelli che stanno salvando l'Italia, quello che emergerà, che il senso di responsabilità l'avrà avuto il Partito Democratico, non certo il Movimento 5 Stelle, quindi poi politicamente, quando si andrà al voto, si vedrà chi ha commesso degli errori clamorosi e alcuni li stanno anche già pagando, perché anche la posizione di Di Maio all'interno del governo mi sembra evidente, ma al di là di questo, io è chiaro, e chiudo su questo, noi, io in quanto comunque punto di riferimento di un laboratorio politico e di un movimento politico, e noi come movimento ci prepariamo a costruire un'alternativa nel metodo e nei contenuti, nell'ottica della credibilità, della coerenza, dei valori in cui crediamo, che sono molto diversi a quelli che hanno caratterizzato anche la nascita di questo governo. Quindi c'è una posizione strategica che è di alternativa a questo governo e c'è una posizione tattica di contingenze del momento che invece ci fanno ritenere che un dialogo, oltre che la noverosa cooperazione istituzionale, si può mettere in campo con le forze di maggioranza parlamentare che in questo momento guidano il nostro Paese.